benvenute e benvenuti a molecole in scatola dialoghi su chimica e società a cura del dipartimento di chimica dell'università di torino in ogni puntata racconteremo un problema una necessità tecnologica o un mistero risolto dalla ricerca o su cui si sta ancora lavorando tirando fuori dalla scatola una molecola o un materiale o un oggetto per capire come funziona a cosa serve o dove lo trovate magari senza saperlo nella vita di tutti i giorni quale sarà il contenuto della scatola di oggi buongiorno a tutti e a tutte e benvenuti a questa nuova puntata di molecole in scatola noi siamo lorenzo mino ed elisa borfecchia siamo due docenti di chimica fisica ed oggi è la nostra prima volta davanti a una telecamera senza pubblico quindi speriamo che l'emozione non ci giochi i brutti scherzi perciò per rompere subito il ghiaccio introduciamo il nostro oggetto misterioso che come vedrete apparentemente non ha molto a che fare con la chimica allora vediamo un pochettino che cosa abbiamo oggi nella scatola eccolo qui è un fumetto un fumetto di zero calcare che però tratta delle tematiche un po' particolari rispetto a quelle di solito trattate da da quest'autore e si intitola educazione subatomica è stato pubblicato nel 2018 in occasione delle celebrazioni per l'anno internazionale della luce che ha coinvolto la comunità scientifica in una serie di iniziative dedicati appunto a questo fenomeno della luce e è una storia illustrata che io trovo veramente carina ogni tanto il linguaggio è un po' colorito nello stile di zero calcare però veramente carina che vi consiglio se prendo spunto dal sottotitolo vediamo che il fumetto è dedicato a raccontarci di particelle accelerate esperimenti estenuanti e ricercatori insonni e tra ispirazione da una visita effettivamente fatta da zero calcare presso l'infrastruttura nazionale di ricerca che chiamiamo elettra sincrotrone trieste quindi l'argomento di oggi è sicuramente affascinante ma forse un po' ostico quindi cerchiamo di capire un po' meglio insieme che cos'è un sincrotrone e magari forse tu Elisa ci puoi chiarire meglio cosa differenzia un acceleratore pensato per la fisica subatomica da un acceleratore pensato per lo studio dei materiali perfetto assolutamente Lorenzo allora permettetemi di prendere in prestito un'immagine che ci dà zero calcare che ci descrive il sincrotrone come un enorme anellone sdraiato quindi rivolto orizzontalmente che ci ricorda un po' lo stargate del film del 94 però appunto in orizzontale e di fatto tecnicamente parlando un sincrotrone è un acceleratore di particelle ora sono convinta che molti di voi avranno già sentito questa definizione magari in associazione a macchine come il CERN di Ginevra che sono dedicate alla fisica nucleare e subnucleare dove dei fasci di particelle vengono portati e fatti collidere a energie elementi elevatissime e l'idea è studiare i prodotti di queste collisioni per capire appunto qualcosa in più rispetto alle particelle subatomiche che costituiscono la materia nel nostro caso abbiamo sempre un acceleratore di particelle però che viene utilizzato con finalità un pochettino diverse nello specifico acceleriamo elettroni li rimpinziamo di energia e li portiamo velocità vicine a quelle della luce a quel punto gli elettroni sono pronti per essere iniettati nell'anellone e lì si compie una sorta di magia questi si muovono a velocità dell'ordine di 300 milioni di metri al secondo e sono in grado di emettere una forma molto particolare di luce diciamo meglio di radiazione elettromagnetica che è caratterizzata da un'intensità elevatissima e contiene al suo interno moltissime lunghezze d'onda diverse ecco questo mi sembra un punto importante da sottolineare cioè col nostro magico anellone possiamo avere sia radiazione elettromagnetica poco energetica come ad esempio i raggi infrarossi delle lampade riscaldanti come nei dehors dei bar sia radiazione elettromagnetica molto più energetica come ad esempio i raggi x che tutti noi ben conosciamo i raggi x sono proprio la radiazione che utilizziamo se ci occorre per fare una radiografia oppure durante un controllo di sicurezza all'aeroporto prima di imbarcarci un'altra cosa importante che vi vogliamo dire rispetto a queste sorgenti è che la radiazione che si chiama proprio radiazione di sincrotrone viene messa preferenzialmente nelle direzioni tangenti rispetto all'anellone ed è proprio lì che troviamo le cosiddette linee di fascio tante piccole stazioni sperimentali popolate dai nostri ricercatori insonni che fanno i loro esperimenti ognuna dedicata a una tecnica di analisi differente a questo punto senti lorenzo secondo me tu sei più ferrato di me in storia che ne pensi di raccontare un pochettino come è stato scoperto inizialmente questo fenomeno e qual è stata l'evoluzione temporale delle sorgenti di radiazioni di sincrotrone certo come ben sai l'evoluzione storica delle scoperte scientifiche mi affascina sempre e per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un viaggio ritroso nel tempo nel secondo dopoguerra precisamente nel 1947 e spostarci anche vicino new york nei laboratori della general electric dove fu vista per la prima volta la radiazione di sincrotrone non uso questo termine vedere a caso nel senso che al tempo l'anello del sincrotrone era molto piccolo le particelle gli elettroni venivano accelerati ad energie più basse e quindi la radiazione emessa radiazione nel visibile quindi i ricercatori poterono vedere con i loro occhi un lampo accecante di luce che è la radiazione di sincrotrone poi per circa 20 anni gli scienziati dei materiali sfruttarono la cosiddetta operazione parassita cioè usarono i sincrotroni pensati per la fisica delle particelle subatomiche quando i fisici delle altre energie erano a riposo quindi di notte nei weekend a natale si proprio una vitaccia poi fortunatamente negli anni 70 è iniziata la costruzione di sincrotroni dedicati allo studio delle molecole e dei materiali e la vita è un po' migliorata nel senso che almeno le festività natale pasqua lo scienziato dei materiali se le può godere le notti non tanto perché appunto gli elettroni sono insonni e quindi si lavora anche di notte e quindi spesso dopo un bimtime uno ha la faccia un po' provata un po' come la mia oggi che mia figlia non mi ha fatto dormire ma adesso magari puoi darci un'idea di a cosa possiamo usare come possiamo sfruttare queste super macchine assolutamente sì allora le sorgenti moderne come elettra che abbiamo a trieste come ad esempio il sincrotrone europeo che abbiamo a grenoble dove anche molto spesso ci richiamo per fare qualche misura sono di fatto degli strumenti all'avanguardia che ci permettono di comprendere di capire meglio la struttura e le proprietà della materia possiamo in qualche modo immaginarli come dei microscopi potentissimi che si avvalgono ad esempio dei raggi x anziché della radiazione visibile come nei microscopi a cui siamo forse più comunemente abituati per appunto permetterci di visualizzare la struttura dei materiali su scala atomica e molecolare eventualmente monitorarne il comportamento in condizioni di lavoro ora le applicazioni possono essere davvero molteplici però se devo farvi un esempio nel contesto ad esempio del nostro progetto del dipartimento di eccellenza le tecniche avanzate che possiamo implementare utilizzando queste super macchine come detto lorenzo sono essenziali ad esempio per guidare lo sviluppo di nuovi materiali per applicazioni nel contesto della transizione energetica ad esempio per produrre e immagazzinare l'energia in modo più efficiente e sostenibile pensiamo ad esempio materiali per celle fotovoltaiche o pannelli solari oppure materiali per batterie. Ok diciamo che abbiamo fatto un po' penso una panoramica generale ma a questo punto senti ma perché non parliamo un pochino anche di noi delle prime volte dei primi turni di misura che facciamo insieme ormai tanti anni fa. Ormai forse 15 anni fa diciamo così allora sì il sincrotronio di grenoble perché noi andiamo spesso a grenoble che è relativamente vicino qua a torino e sì all'epoca il sincrotronio aveva un aspetto diverso da quello attuale perché le linee di fascio che menzionavi prima erano più corte quindi era possibile effettuare a piedi il giro interno dell'anello o meglio era possibile sfidarsi in delle corse clandestine in bici perché all'epoca c'erano ancora le bici e diciamo sfidarsi di notte chi compiva per primo il giro interno dell'anellone. Poi la performance del sincrotrone era sicuramente inferiore rispetto a quella attuale che consentiva di acquisire meno dati ogni campione richiedeva un'analisi più lunga però sicuramente questo aveva anche i suoi vantaggi perché uno poteva sfruttare il tempo morto per andare in centro a grenoble a fare una bella cena a base di fondue savoiard o tartiflette mentre adesso mi sembra che la vita sia un po più frenetica il sincrotrone vero elisa assolutamente guarda lorenzo quelli erano proprio tempi d'oro le misure andavano pian pianino c'era tutto il tempo per godersi godersi queste belle scene devo dire che però adesso in questi 15 anni le cose sono molto cambiate le sorgenti hanno continuato progressivamente a migliorare sempre di più le loro performance strumentali permettendoci di effettuare le misure in tempi sempre più ridotti sempre più veloce anche di aumentare ovviamente la risoluzione con cui guardiamo i nostri materiali oggi di fatto in un esperimento tipico che continuiamo ancora a fare sono quattro cinque giorni di misura e raccogliamo qualcosa come migliaia o decine di migliaia di scansioni i dati sono veramente tanti e anche avendo dei tesisti validissimi super volenterosi che ci aiutano nell'analisi dati appunto le moli di dati che andiamo a raccogliere sono troppo grandi e senza avere strumenti dedicati che ci permettono di estrarre in modo efficace l'informazione siamo davvero un po' travolti infatti anche in questo contesto ci aspettiamo che l'intelligenza artificiale rappresenterà davvero un punto di svolta permettendoci appunto di estrarre in modo sempre più efficiente l'informazione chimico fisica da queste grandi moli di dati che otteniamo utilizzando sincrotrone stiamo già facendo i primi passi in questo contesto e speriamo appunto di rafforzare le nostre competenze nell'utilizzo di strumenti di machine learning nel contesto appunto dello sviluppo del progetto del dipartimento d'eccellenza che nella data science ha proprio uno degli elementi fondanti sì sì quindi l'idea è affiancare alla nostra intelligenza naturale l'intelligenza artificiale bene vi abbiamo già rubato abbastanza tempo speriamo di essere riusciti un po' a suscitare un po' di curiosità verso questo magico mondo dei sincrotroni magico un po' complesso e nelle loro potenzialità dello sverare le proprietà dei materiali speriamo anche di avervi convinto a inserire nella lista delle vostre prossime letture questo fumetto di zero calcare non ci resta che dirmi arrivederci alla prossima puntata di molecole in scatola ciao ciao a tutti molecole in scatola è realizzato dalla commissione public engagement del dipartimento di chimica dell'università di torino dipartimento di eccellenza 2023 2027 da un'idea di francesca turco musico originali di filippo turci si ringraziano paolo mazza ed il team ict per l'assistenza tecnica e shiva sale pur per il montaggio le puntate sono disponibili sul canale youtube del dipartimento sulla piattaforma podcast spreaker e su spotify